Ma salve a tutti ragazzi e bentornati in compagnia di EvoSmart, guardate qua sotto abbiamo finalmente il box di Honor 10 andremo a fare questo video unboxing anche se ormai online si trovano già addirittura le video recensioni complete comunque noi andiamo ad unboxare questo prodotto che è la versione 128 GB di storage, 4 GB di RAM nella colorazione Phantom Blue vi ricordo che sul sito poi troverete tutte le info tecniche complete perché le colorazioni sono anche altre abbiamo il Phantom Green e poi abbiamo anche la colorazione Black, guardate ecco qua il telefono andiamo subito ad aprirlo vedete questa è la colorazione azzurra, ora poi andremo a vederlo più nel dettaglio poi all'interno del box di vendita questa è la versione stampa quindi molto probabilmente in quella di vendita ufficiale troverete anche le cuffie, troverete anche le auricolari qui abbiamo una coverina in silicone che ormai come tradizione tutte le varie aziende inseriscono nei loro terminali eccola qua, semplice coverina trasparente che va a proteggere lo smartphone abbiamo qui una location un po' particolare di salvataggio poi qua dentro non troviamo niente se non che lo spillino per rimuovere le due SIM ovviamente abbiamo un dual SIM in questo caso, poi troviamo il cavo USB USB tipo C eccolo qua e proviamo vedete anche il caricabatterie rapido perché all'interno di questo Honor 10 abbiamo una super ricarica rapida finalmente per il nostro smartphone adesso andiamo a spacchettarlo e vediamo più nel dettaglio proprio il colore, la colorazione azzurra ecco qua ragazzi la colorazione blu che vi dicevo, Phantom Blue, veramente bellissimo mi piacciono tanto questi smartphone colorati, vedete l'impronta digitale nella parte frontale ovviamente c'è un sistema particolare che poi andremo a vedere in sede di recensione completa e poi troviamo anche una pellicola premontata sul display per proteggere lo stesso dai graffi qui abbiamo l'inserimento delle due SIM, vi dicevo prima in formato nano vi vado anche ad aprire il carrellino così vi faccio vedere, eccolo qua che è un dual SIM non espandibile, vi dicevo questa è la versione da 128 GB ma sul sito troverete anche quella da 64 GB, memoria non espandibile nella parte destra abbiamo il tasto power on e power off adesso vedete andiamo ad accendere il display, nocce nella parte superiore è un display da 5.8 pollici, chiaramente full HD plus abbiamo la fotocamera e le due fotocamere posteriori 24 più 16 megapixel 24 anche la frontale, ho non rappremuto tantissimo su queste due fotocamere vedete molto bello anche il display, luminosissimo, non so se in camera si nota davvero un terminale che in questo endzone mi piace, mi è piaciuto anche durante la presentazione poi ovviamente sarà alla video recensione completa, sarà ai vari test ad ogni modo un ottimo ottimo prodotto soprattutto per il prezzo al lancio 399 euro la versione a 64 GB, 4 di memoria RAM mentre la 128 sale a 4,49 con lo sconto di 30 euro adesso se lo acquisterete sul sito quindi un ottimo ottimo prezzo per questo nuovo smartphone targato Honor per questa intelligenza artificiale, per questa dual camera che testeremo a fondo quindi ci sentiamo ovviamente durante la video recensione completa Guerzo86 vi saluta e vi aspetta sul sito ovviamente evosmart.it un saluto a tutti